Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Cari amici, bentornati all'appuntamento con il meteo di TV6. Una nuova eruzione di aria fredda di origine artica sta scivolando dall'Europa centrale verso il Mediterraneo, lo farà attraverso la Valle del Rodano, quindi darà vita a una depressione tirrenica, depressione che porterà un maltempo diffuso al nord e sulle regioni tirreniche e anche sull'Appennino centrale. Ovviamente essendo aria fredda artica avremo anche un netto calo termico che riporterà la neve fino a volte localmente piuttosto basse per il periodo in Abruzzo. Nel corso di questo sabato giornata pienamente invernale con precipitazioni diffuse e abbondanti negli aree interne sull'Appennino e soprattutto nell'Aquilano. Ci aspettiamo nevicate molto forti, abbondanti, copiose in alta quota, generalmente oltre i mille metri di altitudine con accumuli anche importanti, oltre il mezzo metro. Entro sera i fiocchi di neve potranno scendere di alcune centinaia di metri fino a portarsi attorno ai 600-700 metri di quota. Leggermente più asciutto sulle coste, il primo metro a terra avremo tanti nubi, ma fenomeni molto molto deboli, temperature come vedete da pieno inverno. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.